A proposito di settimane goderecce, questo è assolutamente il più godereccio di tutti, ma non perché sono contento per la vittoria, perché vincere poi anche il terzo o il quarto di settimane, quindi fa parecchio, parecchio, parecchio orale, ma è la prestazione che mi ha dato ancora più gusto. Una prestazione in questo modo è da tanto, 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 tanto tempo che non la vedevo. Ovviamente sto parlando più del secondo tempo, perché il primo tempo del gol di Edoardo Secuzzi non aveva espresso grandi grandi emozioni, anzi, soltanto, perché non avevamo mai tirato in porta, per questo ma nemmeno loro, perché loro non è che hanno avuto questa qual'occasione per farci del male. Bene, bene, bene così, complimenti a tutti, complimenti ragazzi, complimenti a Mr. Pallari che è la sua seconda vittoria in panchina questa, non ci dimentichiamo. L'uvedì 2 aprile giocheremo in casa il turno infrasettimanale contro il Tiferno Lerchi dell'amico di Conofri. Sarà una bella partita, una bella partita, perché ora noi stiamo bene e domenica abbiamo dimostrato di stare bene anche atleticamente. Intanto però godiamoci questi tre punti, godiamoci questa settimana perché la squadra se lo merita, la squadra se lo merita. Ciao a tutti e sempre Forza Sanzo! Forza Sanzo! Forza Sanzo!